Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6 nel corso di questo venerdì 12 agosto. Assisteremo ad una giornata molto instabile su tante nostre regioni, soprattutto al nord-est e al sud. È in atto infatti un nuovo peggioramento sulle regioni nord-orientali ad opera di una massa d'aria piuttosto instabile e fresca proveniente dall'est Europa che darà luogo a tanti temporali e un netto calo termico su buona parte del Triveneto. Ancora la solita instabilità al sud, specie nei settori interni. In Abruzzo una giornata leggermente più stabile rispetto alle scorse 48 ore. Avremo cieli poco nuvolosi per buona parte della giornata con possibilità di qualche addensamento un po' più compatto nel pomeriggio a ridosso dei monti, sull'Aquilano, ai settori più interni, specie sulla Marsica. Però fenomeni molto isolati, di breve durata. Le temperature stazionarie massime tra i 27 e i 30 gradi, minimetro 16 e 21 gradi. Il peggioramento sarà netto marcato nella giornata di sabato, ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata.